è in onda minuti di sapienza messaggio 1 non criticare cerca piuttosto di collaborare con tutti senza fare critiche la critica ferisce e a nessuno piace venire ferito e colui cui piace criticare un po' alla volta si trova isolato da tutti se vedi qualcosa di sbagliato parla con amore e gentilezza cercando di aiutare ma soprattutto cerca di correggere gli altri attraverso il tuo esempio personale evitiamo di criticare puntando il dito verso gli altri per tentare di camuffare la nostra reale responsabilità nel criticare possiamo ferire la persona a cui ci rivolgiamo provocando una chiusura e quindi un allontanamento ci si potrebbe in tale modo ritrovare isolati da tutti gli altri al contrario esprimendo il nostro pensiero con amore e gentilezza dimostriamo rispetto verso l'altro creando momenti di gioiosa condivisione lealtà sincera amicizia in tale modo possiamo realmente aiutare gli altri partendo da noi stessi